Musica Gran parte dell'Europa centro-meridionale ha le prese con una robusta cupola anticiclonica che sta portando valori di temperature eccezionali, specie sulla Francia e sulla Spagna. Anche l'Italia settentrionale, in parte quella centrale, sono alle prese con temperature molto alte, mentre il sud continua a beneficiare di correnti settentrionali. Le condizioni del tempo sulla nostra regione saranno ancora una volta caratterizzate dalla presenza dell'alta pressione che garantirà cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche innocuo addensamento interesserà i rilievi più interni, specie quelli ai confini con la Calabria, nelle ore più calde della giornata. I valori delle temperature saranno stazionari o in lieve aumento nei valori massimi, con punte di 28 gradi a potenza e 32 a matera. Le minime fresche nelle zone interne andranno dai 14 gradi di potenza ai 17 di matera. I venti continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali con intensità moderata sulle zone rivolte a nord. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, risulteranno generalmente calmi. La tendenza per domani. La persistenza dell'alta pressione a tutte le quote continuerà a garantire bel tempo anche sulla nostra regione. La ventilazione settentrionale però non farà alzare più di tanto le temperature, che pur sopra le medie non raggiungeranno i valori che invece si registrano sul resto dell'Italia. Grazie.